E riusciranno le nostre formiche a portare dentro questi semi nella loro cazzo di tana nella nostra terrazza? Si danno da fare le bastarde, poi te le ritrovi in cucina. Grazie. Hanno chiamato rinforzi, prima erano in tre. Niente, non ce la fanno, vedremo come ce la fanno. Comunque ci danno molto da fare, molto industriose. Grande popolo le formiche, veramente grande popolo. Ecco un altro tentativo. Il piccolo dovrebbe entrare. Queste sono capaci anche di mangiare il muro con i loro tannagli per far entrare questo semo. Un altro tentativo. Un altro tentativo. Dai che entra! Andiamo a vedere anche l'altra tana. Si infilano da dentro, lì, e spariscono. Bastarde! Ecco, queste hanno trovato qualcos'altro. Questo è il miglio del canarino che si portano via. Mentre qui il problema non è ancora risolto, al prossimo appuntamento con il popolo delle formiche rompicazzo. Arrivederci!